Non ci siamo mai ribellati. Testimonianza di Giuseppe Daniele, nato a Cherasco, frazione Cervere, classe 1887, contadino. Sapesse che vita abbiamo fatto per mettere assieme dieci giornate di terra. Siamo partiti da zero. Abbiamo tribolato fino a che la famiglia è cresciuta. Oh, sacramenta! Quante volte abbiamo mangiato uno spicchio d'aglio e pane ammuffito, anticristo! Avevamo niente. Mio padre affittava una piccola cascina di tre giornate, otto figli, e lo lavoravano a zappa. Zappavano anche di notte. L'unica bestia era una scrofa. Padre e madre andavano nei campi. Mi portavano appresso come un fagotto. Mi buttavano sotto un gelso e mia madre di punta e mio padre dietro con una corda trascinavano l'asse per spianare la terra arata. Mettevano bene in piano. Poi seminavano il grano. Prendevano la zappa e facevano il solco e il colmo. Poco per volta seminavano così. I particolar, i proprietari, avevano già qualcosa di più. Aravano già. Ma quello che aveva niente bisognava che zappasse. Oh, già che allora. Poi c'erano le cascine grosse. Quelli che vivevano bene. Per fortuna mio padre e buonanima lo mandavano a chiamare per i lavori da manovale alla fattoria La Torre. E gli davano quattro o cinque soldi al giorno. Se no, morivamo tutti di fame. Mi avessero dato del pane asciutto a volontà, ma non potevano darmelo. In otto a mangiare, uno al culo dell'altro, io e buonanima di mia sorella, andavamo sempre le cascine a chiedere la carità. Una volta siamo passati in una cascina, ci hanno dato una fetta di polenta con la mostarda di mele. Abbiamo fatto una festa. A casa mangiavamo solo polenta e cape fritte nel lardo. Morivano tanti bambini per denutrimento, per fame. Eh, la miseria è brutta. Mangiavamo il pane ammuffito con la barba sopra. Con una manata toglievamo il più grosso della muffa e non perdevamo una briciola. Altro che adesso che tanti il pane lo buttano via, lo sprecano. Eravamo appena coperti. Vestiti con cutelion, con una sottana di tela andante. Fino agli otto anni, anche i maschi portavano la vesta, la sottana. Quasi sempre scalzi, d'inverno con un paio di zoccoletti. Dormivamo sul fienile e all'inverno nella stalla. Si metteva la stufa nella stalla perché la scrofa non patisse il freddo. Un leggero strato di paglia o di fogliame sotto al piano stalla e un leggero strato sopra su un soppalco, sul bauti, sul trabial. Per aria su quattro assi e tutti ammucchiati. Padre e madre invece dormivano nella stanza. Eravamo tanti montati così, poca terra e tanti figli. E nessuno che ci dava una mano. C'era solo un contadino, il padrone di una cascina grossa. Quello era un galantuomo. Quello lo ricordo sempre. Era amico di mio padre e gli diceva Giacu, guarda, non lasciare patire i tuoi bambini. Vieniti a prendere un sacco di grano. Vieni, vieni. E pagare. Lo pagherai poi. Sapeva della nostra fame. Intanto i miei fratelli hanno patito. Sono morti tutti uno dopo l'altro. Prima dei 15 anni. Solo una sorella è vissuta fino ai 40 anni. Si può dire che sono morti di fame. Denutriti a non mangiare. Le nostre tre giornate di terra ci davano poco grano a più va. Non avevamo letame e la terra rendeva poco. Quando avevamo otto anni mi hanno aggiustato, ossia sistemato, affittato in campagna da andare al pascolo ai maiali. Allora mi sono comprato un pantalone e la giacca. Prendevo 70 lire l'anno. Lì mangiavo. Io preferivo aggiustarmi che stare a casa. Ero il più alto e a non mangiare pativo già. Man mano che crescevo, da servitore guadagnavo di più. E poi d'estate andavo a fare la campagna del grano. Con la falciola, 15 giorni senza posare il ferro, l'attrezzo, la falciola appunto. E un calore addosso, il sole che bruciava e da bere acqua e aceto a volontà. Scuola io ne ho fatta poca perché quando toccava andare a scuola mi aggiustavo. Andavo a scuola tre mesi d'inverno. Ho appena fatto la seconda. Da soldato non sapevo nemmeno fare il mio nome. Non sapevo nemmeno scrivere a casa. Ho imparato da soldato a scrivere. Quasi tutti eravamo così. Che scuole che avevamo. Che cosa era il prete per noi? Il prete aveva il suo lavoro. C'era il prete, ma faceva il suo lavoro. Non ci aiutava. Se uno non andava in chiesa, facevano che dire che era un ebreo. Così uno per l'altro andavamo tutti in chiesa. Dicevamo così nessuno mi legge la vita. Ma era così. Padre e madre hanno visto l'inferno. Malata, mia madre non aveva i soldi a comprarsi un po' di caffè, un po' di zucchero. Quando andava già bene, prendeva una gallina e mio padre portava la gallina al negozio e tornava a casa con un po' di caffè. Ma si faceva così quando mia madre era proprio malata. Mica adesso che i giovani li hanno a Barun i soldi, ossia a mucchi. E se gli dici qualcosa ti rispondono che eravamo stupidi. Eravamo stupidi per forza. Perché non avevamo un soldo. Ah ragazzo, io adesso ho una casa e sto bene. Ma adesso sono vecchio e muoio. Ma la vita l'ho passata grama in più la guerra. Ho tirato il numero a Cherasco, in comune. Erano 110 i miei coscritti. Andare a fare il soldato per me voleva dire perdere le giornate e mi rincresceva. Ma se no si stava mica male. Finalmente mangiavo. Solo che avevo la madre a casa. Ma riuscivo lo stesso ad aiutarla. Non andavo mai in libera uscita. Prendevo la cinquina, la mucchiavo lì, ma andavo tutto a casa. Sono stato un anno cuoco al battaglione Borgo San Dalmazzo. Lì mangiavo delle cotolette. Sono ingrassato da qui a lì e mi sono aggiustato un po' i polmoni. Ma poi è venuta la guerra. Io ero di terza categoria come capofamiglia. Hanno perduto l'Udin, una montagna. Forse era del 1916. Allora ci hanno richiamati anche a noi di terza e siamo andati a riprendere quella montagna. Poi al Crestarossa, altra montagna del Veneto, altra battaglia. Poi l'Ortigara del Trentino. Ah ragazzo, non so come sono riuscito a tornirmela. E mucchi di morti. Hanno cominciato a salire in mattinata ad abbassare i tedeschi e ci hanno preso su un fianco e ne hanno fatto una strage. Che cosa pensavamo noi di quella guerra? Non avevamo nessuna voglia di farla. Per forza andare. A noi non interessava la guerra. Noi eravamo poveri diavoli. A noi non conveniva. Interessava qualcuno per farsi soldi. Ma non a noi. Andiamo là a perdere tempo e ancora a farci ammazzare. Ecco che cosa ci dicevamo. È sull'Ortigara che ho visto la guerra più brutta. Là i colpi di mortaio cadevano e facevano tremare la terra. Una notte siamo usciti dalla trincea. Ero con la quindicesima compagnia del battaglione Borgo Sant'Almazzo. Abbiamo raggiunto una valletta che era piena di morti. Abbiamo costruito una lunga morena con i morti. Abbiamo tolto i morti e ci siamo ammucchiati al loro posto. Poi al mattino, alle sette, arriva l'ordine di partire all'assalto. Fuori! Grida il capitano. Prima esce lei! Poi usciamo noi! Gli dicono i soldati. Le mitraglie dei tedeschi sparavano a gran forza la soterra. Esce il capitano. Esce la prima ondata di alpini. E muoiono tutti. Io ho tardato un attimo. Se ho da morire, muoio qui, mi sono detto. Poi la nostra artiglieria ha cominciato a bombardarci. E anche i tedeschi hanno preso a bombardarci. I nostri ci bombardavano per farci uscire dalla trincea, per spingerci all'assalto. Ne! Che guerra falsa! In quello scompiglio ne sono morti migliaia e migliaia. Ma! Quante volte mi sono nascosto sotto i morti per ripararmi dalle schegge degli Srapnel. Come erano i nostri ufficiali? Ce n'erano dei buoni e dei cattivi. I cattivi ogni tanto li trasferivano di reparto perché se no i soldati li ammazzavano. Il soldato stava sempre zitto. Ma l'ufficiale cattivo aveva paura di essere ammazzato. Non ci siamo mai ribellati. Non eravamo mica capaci di ribellarci. Non avevamo nemmeno più fame in trincea. Tanta era paura. Tante erano le sofferenze. Avevamo sempre tanta sete. Oh! Dell'ortigara mi ricordo sempre. Poi una volta sono andato avanti con trenta esploratori. C'era stato un combattimento e ne avevo visti a cadere tanti. A cadere giù, come le mosche. Siamo finiti in una buca. Gli austriaci ci hanno accerchiati. Allora abbiamo alzato un fazzoletto. Siamo caduti prigionieri. Anche gli altri della mia compagnia sono caduti prigionieri. I primi giorni siamo vissuti con un mestolo di brodaglia. Poi in treno ci hanno portati in Ungheria. Rape alla mattina e alla sera. Nient'altro. Più niente pancia avevamo. Ne sono morti tanti dei nostri. Tutte le mattine erano trenta o cinquanta i nostri morti. Tanti morivano senza male. Come un pollastrino quando ha la malattia. Facevamo cuocere le bucce delle patate, delle rape. Io vivevo a Cicoria. Mi dicevo così non posso più andare avanti. Un giorno arriva l'ordine. Chi vuole andare in Galizia? Occorrono 60 uomini a lavorare in una fattoria di 1500 giornate. Allora mi sono trascinato in fila. L'indomani siamo saliti sul treno. Un giorno e una notte siamo arrivati a Leopoli, vicino alla Russia. Lì sono andato un'altra volta a chiedere la carità. L'avevo chiesta da piccolo la carità e l'ho chiesta da alto. Andavo a bussare alle porte delle case. Mi dicevano ceta ceta. Aspetta aspetta. Mi davano una fetta di pane nero e una patata. Una volta ho imbattuto in una casa dove c'era un medico. Mi ha dato una bella pagnotta di pane bianco. Vi ricordo. l'ho baciata quella pagnotta prima di mangiarla. Mi dicevo. Oh stavolta mi riprendo un po'. L'ho mangiata. Non mi ha nemmeno toccato le budella tanto ero vuoto. Se veniste in due a segare la nostra legna. Mi ha detto il medico. Sì sì. Io chiamo un mio compagno. Alla sera siamo andati là a segare la legna. Un'ora e mezza. E finito il lavoro ci ha dato una buona minestra di orzo. E dopo la minestra una bella e buona polenta. Noi mangiavamo tutto. Allora ci ha fatto preparare ancora una purea di patate. Iste non riuscivamo più a tirare il fiato. Cristofu avremmo mangiato fino a scoppiare. L'indomani siamo andati a lavorare per la prima volta alla fattoria. Là c'erano delle pentole di patate bollite. E noi giù a mangiare. Un amico aveva già la pancia gonfia. E io a dirgli. Stai attento. Che crepi. È rimasto lì con una patata in bocca. Morto. Si sono strappate le budella. Le nostre budella erano fini. Sottili. Patite. Nella fattoria piano piano mi sono ripreso con le forze. Ero contento. Mi sentivo rivivere. Poi è finita la guerra. Il padrone della fattoria voleva che restassimo là. No. Io non ci sto in questi paesi a mangiare patate e cavoli. Ah. Era brava gente. Contadini. Bravi. Sicuro. Mi ricordo sempre una volta ero seduto lungo una strada. E mangiavo una patata. È passata una donna. Mi ha guardato. E si è messa a piangere. Eh. Era più duro fare della fame che fare la guerra. Tra i prigionieri i più smilzi resistevano. Ma i più grossi si sgonfiavano. E morivano tutti. Quando sono tornato a casa ho trovato la solita miseria. Ero pulito. A zero. Gli altri si erano fatti i soldi. E noi a zero. Mia madre ormai era sola. Era vissuta distenti. Aveva tirato avanti con il mio piccolo sussidio. L'avevano truffata col sussidio. La combattenti era d'accordo con il distretto. Avevano rubato 50 lire a mia madre. A ogni madre di soldato avevano rubato 50 lire. L'ho proprio constatato io quando sono tornato dalla guerra. E le ho pretese quelle 50 lire. Che truffatori. Ho subito ripreso a fare il manovale nelle cascine a una lira al giorno. All'estate andavo col ferro a tagliare il grano. Le giornate erano lunghe. Due lire al giorno. Con due lire si comprava giusto una camicia. Lavorando guadagnavo i soldi per comprare la crusca per i maiali. E mantenevo mia madre. Poi sono riuscito a comprare una vacca. Poi un'altra. Ho affittato un po' di terra. Rispettavo la briciola. Nel 1924 mi sono sposato. Ho avuto quattro figli.